Ed eccoci qua per una nuova ricetta, oggi una cosina gustosa soprattutto per i bimbi ma anche per gli adulti. Oggi vi propongo nuggets di pollo, ci serviranno 200 g di pollo a tocchetti, due fette di pane bianco senza crosta, 60 g di formaggio fresco salmabile tipo filadelfia, 60 g di latte, un uovo 50 ml d'acqua, 100 g di pan grattato, l'olio per la frittura e il sale. Andiamo a vedere come si fa. Allora oggi vi presento una ricetta super buona, super facile e golosissima per i bambini, anche per gli adulti ma per i bambini soprattutto. Facciamo i nuggets di pollo fatti in casa che sono buonissimi. Devo ringraziare per questa ricetta Betty che mi ha fatto imparare a farli, quindi grazie Betty che mi hai svelato questo segreto per queste crocchette super buone. E detto questo andiamo a vedere come si fanno. Allora, le dosi che trovate nella ricetta io di solito le moltiplico per due, perché siamo in quattro e quindi le moltiplico per due. Valutate voi quante farne insomma. Allora, andiamo a prendere il pollo, io prendo il petto di pollo, quello grosso intero, poi lo taglio ad adolini. Ok, lo metto nel mixer, quindi usate un mixer, semplicissimo. Quindi, pollo, una presina di sale un po' abbondante, chiudo e vado a frullare a una velocità un po' alta. Guardate, per circa 10 secondi, 12. Il risultato deve essere proprio in poltiglia. Allora, noi andiamo a riunire sul fondo e ci andiamo a mettere le fette di pane, quelle senza crosta. Quindi proprio le smacciullate così, grossolanamente dentro. Ok, eh. Io ne metto tre perché la dose l'ho fatta per tre, perché devo darne un po' ai miei vicini. Se sanno che le faccio, che sono buone, mi ha chiesto se ne ne do qualcuna, quindi così. Poi vado a metterci il formaggio spalmabile. Io in questo caso, ripeto, la confezione intera perché facendoli per tre, la metto tutto. E infine metto il latte, che ho già pesato. Ok. Andiamo. Via, si frulla. Sempre per 10-15 secondi. Ho una bella velocità, eh. Ok. Allora, il mio lo vado a frullare ancora un po', perché ha preso a aria, come si dice, ha fatto la bolla. Quindi sciogliamo ancora un pochino. Poi vedete voi, quando è proprio... Ok. A posto. Vedete? Si vede. Eccolo qua. E adesso andiamo a fare le crocchette. Allora. Ci andiamo, innanzitutto, a lavar le mani. Le teniamo umide, così non ci si attacca l'impasto. Allora, io ho preparato due uova, in questo caso, con un 100 ml di acqua. E poi del pangrattato. Allora, andiamo a prendere un pochino l'impasto. Poi fate voi come volete, insomma, grandi quanto volete. E prima le faccio palline, poi magari le piattisco un po', tipo proprio crocchette di pollo. Mani umide. Così scivola. e via così. Facciamo... Guardate gli la forma che più vi piace. e voilà passiamo il pangrattato sono un nuggets un po' con delle forme un po' particolari ma sono buonissime vi assicuro e via così e rifacciamo tutti così fin quando non abbiamo finito allora io logicamente ho fatto come al mio solito la mia pappetta di uovo e pangrattato quando ho finito bassoio nuggets pronto ok adesso una bella palella grande vedete ci mettiamo un po' di olio per friggere ma proprio poco non è che devono friggere tipo le patatine devono essere proprio due dita neanche lo mettiamo a scaldare quando è caldo poi andiamo a buttarci i nostri nuggets eccoci allora facciamo un friggere bene olio ben caldo io ho già preparato una teglia con un po' di carta assorbente per metterli dentro e un po' di carta assorbente un po' di carta assorbente e un po' di carta assorbente Grazie. Allora, girate le spesso, così non le facciamo bruciare. Sono belle dorate, le togliamo. Allora, questo è il risultato, vedete, quindi non ci tocca che dire in cucina con la Vale.